Il primo passo verso la libertà è ritornare alla consapevolezza della nostra vera natura di esseri spirituali che dimorano in un veicolo psicofisico per un breve periodo allo scopo di tornare alla casa eterna. Quando avviene questo diventiamo esseri risvegliati e non dobbiamo più aver bisogno di tornare a incarnarci perché abbiamo trovato la soluzione al gioco dell'esistenza e sappiamo di essere quello perché dimentichiamo di essere riflessi di un unico spirito. Al momento dell'immersione in un corpo fisico in un velo illusorio chiamato maya ottenebra la nostra coscienza e ci fa dimenticare chi siamo intrappolandoci nella credenza illusoria avidia ossia l'ignoranza di sé di essere un individuo con un corpo una personalità un nome con delle caratteristiche particolari a smita ego. L'illusione ci porta ad avere preferenze simpatie a raga per tutto ciò che pensiamo ci possa dare piacere e ad essere avversi dueza a ciò che invece ci può causare dolore. A chiudere il cerchio sono l'attaccamento profondo alla vita e la paura della morte. Figlie dirette dell'identificazione con la macchina biologica così diventiamo schievi dell'ego di finte personalità che si impegnano per tutto il tempo a lottare contro il tempo e lo spazio contro i fantasmi del tempo e della morte come animali forse un po più intelligenti. Tornare alla consapevolezza della nostra natura è tornare a casa, natura di esseri spirituali, riconoscere il divino che è in noi e che siamo noi stessi a creare le nostre catene pensandoci distanti, cercando un po' ovunque piuttosto che noi stessi. Tutto è natura. Tutto è natura coscienziale. Tutto è coscienza. Siamo circondati, immersi in un'intelligenza infinita. Lo Spirito Supremo per poter manifestare la creazione ha emanato due elementi. Paracriti, natura, la coscienza, il suo riflesso individualizzato poi in ogni punto della creazione e la vibrazione o suono cosmico OM. Per fare questo ha iniziato dal pensiero creando prima l'universo causale. Le vibrazioni di pensiero oscillando in modo più grossolano sono diventate energia, andando a creare l'universo astrale che a sua volta, vibrando in modo ancora più grossolano, è diventato materia, creando quello che è l'universo materiale che conosciamo. E visto che noi siamo un riflesso dello Spirito, questo è importantissimo da sapere, perché noi ne condividiamo lo stesso processo di creazione. I pensieri mettono in modo energia che attrae materia, che attrae situazioni materiali in sintonia con la propria vibrazione. Risonanza, attrazione, specchio, molteplici sono i modi per indicarla. E ci dice che l'universo risponde ai nostri pensieri prevalenti, o meglio, ai nostri stati d'animo. Mettendo sulla strada situazioni, cose, persone, in sintonia con il nostro modo prevalente di pensare e sentire. Ogni forma dell'universo è in grado di ricevere solo l'energia che è in grado di trasmettere. Se facciamo vibrare un diapason in corrispondenza di una chitarra o un pianoforte, cominceranno a vibrare anche le corte corrispondenti alla nota LA e quindi alla stessa nota sugli strumenti, dando luogo a quella che viene definita eccitazione per risonanza. Quello che viene trasmesso si propaga nello spazio innescando la medesima vibrazione in sistemi risonanti. Un altro fenomeno collegato alla legge di risonanza è quello del magnetismo. Un conduttore percorso da corrente elettrica sviluppa un campo magnetico coerente con la corrente che lo attraversa. Più la corrente che lo attraversa è intensa, più forte è il campo magnetico. Noi esseri umani siamo conduttori percorsi da corrente elettrica e quindi ognuno di noi, in modo cosciente o no, sviluppa un campo elettromagnetico intorno a sé. E questo campo possiede una forza di irradiazione nello spazio maggiore o minore, a seconda del potere del nostro magnetismo. Se esso entra in contatto con un campo elettromagnetico coerente, i due campi innescano un'attrazione reciproca. Quindi ciò che sto trasmettendo come campo elettromagnetico produce in ogni momento e quindi anche ora un fenomeno di attrazione su sistemi risonanti. Possiamo dire quindi che quello che sto aggiungendo nella mia vita e che la vita mi offre è coerente alla mia risonanza, a ciò che trasmetto. Le molteplici forme della creazione sono solo apparenza, in realtà tutto è spirito, coscienza. Possiamo dire che la differenza tra spirito e materia è solo nel differente grado di vibrazione. Il primo più sottile, la seconda grossolana. Allo stesso modo le nostre azioni ugualmente riflettono il nostro modo di pensare e ne sono la conseguenza nell'atto di creare. Diventiamo in un certo senso la nostra creazione. Agendo diventiamo le nostre azioni, riflettendole nel nostro corpo e nella nostra personalità. La coscienza fondamentale, il sé, non è intaccata da queste azioni. Nell'essenza non siamo americani, italiani, uomini, donne, santi, peccatori. Per cui possiamo iniziare a chiederci come agirebbe un saggio e comincia ad agire come se tu fossi quello. L'uomo riflette nel suo microcosmo ciò che lo spirito infinito compie nel macrocosmo quando diviene lo sconfinato universo. In entrambi i casi gli atti del nostro divenire non sono che i diversi stampi in cui la coscienza, come un fluido o informe, si riversa per qualche tempo. L'universo materiale è essenzialmente coscienza. Il suo inizio non è nella forma, nel pensiero. Il pensiero è la vibrazione più sottile della coscienza divina. Allo stesso modo, le limitazioni fisiche dell'uomo hanno origine tutte nel pensiero. È vero che molte volte le nostre circostanze esterne sono il risultato delle energie e dei comportamenti degli altri. È anche vero che noi attiriamo quelle energie e che noi stessi per primo emaniamo. Tutta la nostra vita è una manifestazione esterna della nostra coscienza attraverso l'energia che noi stessi generiamo. Perfino gli eventi inaspettati, indesiderati, sono attratti da qualche atteggiamento della nostra mente. Nella sua essenza l'anima è sempre libera. Anche se l'identificazione con certi schemi di pensiero limita la tua libertà, i pensieri stessi possono fluire abbastanza liberamente. Solo quando l'attenzione comincia ad essere più focalizzata, in modo da generare un flusso di energia, noi iniziamo ad essere vincolati a una particolare definizione, autolimitazione. Il vincolo mentale si solidifica quando quel flusso di energia si concretizza in un'azione esteriore. A quel punto diventa difficile romperlo. Le emozioni negative impediscono alla nostra energia di fluire liberamente. Le emozioni negative e non risolte creano dei blocchi nel nostro sistema energetico. Le cattive abitudini che noi abbiamo derivano da un atteggiamento mentale iniziale che si è ripetuto nel tempo, si è tramutato in azione ed è diventata un'abitudine col tempo e con la ripetizione. Allora, un sistema per prendere in mano la propria vita è quello di visualizzare e sentire profondamente situazioni ideali, inviando in questo modo vibrazioni di qualità all'universo per creare e determinare le esperienze nella nostra vita. Per creare nuove situazioni dobbiamo cominciare a creare nuove modalità di pensiero e di conseguenza il sentire e il comportamento. La trasformazione interiore si riflette sempre come un cambiamento esteriore in conformità con l'immagine interiore che formiamo. Lavorando nella cornice delle leggi di natura dobbiamo accettare il fatto che ogni esperienza può essere nostra. Tutto ciò fa parte della nostra esperienza dal corpo fisico al lavoro all'ambiente che ci circonda le persone che frequentiamo sono tutte proiezioni delle nostre credenze subconsce. E allora, se vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo cambiare le credenze, le concezioni, lasciare il vecchio e aprirci a una vita creativa. La visualizzazione funziona sul principio che la mente subconscia non riconosce se un'esperienza sia reale o solo immaginata e accetta qualsiasi cosa noi le inviamo come reale. Quindi, se voglio formare una nuova abitudine o creare una condizione favorevole nella mia vita devo formare un'immagine di quella situazione o abitudine e assumerla come se fosse già mia. È necessaria una fede incrollabile in me stessa, in me stesso e nel sistema che adotto essere costante non demordere se le cose non sembrano andare subito come voglio e essere convinta di meritare la nuova situazione. Fede incrollabile costante meritare la nuova situazione. La maggior parte delle volte infatti le persone che hanno successo sono quelle che credono di poter fare una cosa mentre quelli che si reputano in grado e non pensano di meritare il successo falliscono. Ingredienti per visualizzare Ti suggerisco di utilizzare strumenti affinché la mente si calmi il respiro la meditazione insieme partecipano alla creazione di uno stato tranquillo dove la mente cosmica si particolarizza nella tua mente ti suggerisco di immergere la consapevolezza nella coscienza infinita visualizza la situazione il cambiamento crea un'immagine chiara con tutti i dettagli necessari nella tua mente all'altezza della fronte e immagina come ti sentirai quando il tuo intento la situazione visualizzata il cambiamento desiderato saranno soddisfatti avverti avverti senti e rimani nello stato di soddisfacimento che segue il raggiungimento del risultato fino a quando la tua convinzione non sarà incrollabile concludi la visualizzazione e senza basare ai risultati vivi come se il risultato fosse già manifestato l'immaginazione creativa è diversa dalla fantasia per gradi perché è controllata da un'intenzione mentre la fantasia è immaginazione non controllata immergi la mente in affermazioni positive ritmate con piena forza che diano nutrimento al potere delle nostre visualizzazioni che ci guidino ci accompagnino nello scorrere del vivere eterno sono mantra intervengono influenzano positivamente la vita che conduciamo la mia mente è pura e la mia consapevolezza si estende allo spazio infinito ho risorse infinite e disponibili continuamente quando e come ne ho bisogno quando e come ne ho bisogno tutti gli eventi tutte le esperienze le circostanze le relazioni sono sempre in divino ordine nell'infinità della vita che vivo tutto è perfetto integro e completo mi apro alla saggezza interiore sapendo che esiste solo un'unica intelligenza in questo universo e da quest'unica intelligenza sorgono tutte le risposte tutte le soluzioni tutte le guarigioni tutte le creazioni ho fiducia in questo potere e in questa intelligenza sapendo che qualsiasi cosa debba apprendere mi viene rivelata e che qualsiasi cosa di cui abbia bisogno mi viene data nel momento nello spazio e nell'ordine giusti nel mio mondo tutto va per il meglio e nell'ordine giusti